una buona serata al pubblico presente qui a San Luigi in attesa della finalissima primo secondo posto tra Gomme Marcello ed Edil New stiamo per assistere alla finalina anche se un nome un po' inelegante e generoso terzo quarto posto tra Brada Impex e Trieste Costruzioni Brada Impex in completo blu Trieste Costruzioni in giallo rosso chiaramente attenzione catalizzata da un ospite d'onore questa sera e ringraziamo Sindora Miograd Milikovic responsabile della Trieste Costruzioni per averlo portato qua in 15 anni di Crese Cup non è mai successo di avere un calciatore che milita stabilmente in Serie A impegnato in una parita di calcio a 7 del Crese abbiamo avuto tanti giocatori di Lega Pro di Serie D insomma però in maglia 11 a dare il calcio d'inizio insieme a Marco Hervatin e muoverà il primo pallone di questa finalina diretta dal signor Vallerugo c'è Walter Birsa e molti di voi chiaramente avranno riconosciuto e allora una emozione particolare non solo per il pubblico ma anche per il sottoscritto si può cominciare due tempi da 25 minuti in caso di parità supplementari da 6 minuti ciascuno e poi calci di rigore dalla parte opposta dove c'è Slaven Radiscovic che ha spazio passaggio quasi ossequioso verso Birsa c'è spazio adesso per Rock Gergeli che finta il destro tocca Hervatin tocco di ritorno e la piazza sotto il sette Rock Gergeli quinto minuto di gioco si sblocca questa finalina terzo quarto posto rete del numero 6 Trieste Costruzioni in vantaggio ritmi chiaramente non esasperati chissà che questo non permetta alle tante individualità di spicco in campo non solo a quella già citata più volte di esibirsi in qualche tocco ad effetto a beneficio dello spettacolo del pubblico presente adesso per Oscia, Gorgeli, Birsa ha un po' di spazio per provare ad avanzare finta il destro per Radiscovic, tocco dentro da zero metri la palla finisce in rete Marco Hervatin ha rischiato quasi di sbagliarla, ha incespicato sul pallone però in qualche modo ha varcato la linea, niente da fare per contento due a zero per i giallorossi, sette e trenta sul cronometro adesso Brick, Parada Impex chiamata a dimezzare quantomeno lo svantaggio anche se oggi veramente serve una super partita calcolando insomma che la posta in gioco non è quella per il primo posto ma visti gli avversari in campo sicuramente ci tengono ora per Oscia, per Birsa, esce su di lui ferro smista bene per Hervatin, tocco di ritorno e arriva la firma illustre di Walter Birsa per il 3 a 0 della Trieste Costruzioni appoggio facilissimo sulla gran palla di Marco Hervatin quindicesimo di gioco e finale terzo quarto posto che prende un indirizzo abbastanza preciso mentre nei giallorossi entra Tine Capun al posto di Matei Peroscia chiamato a rifiattare un po' in panchina con calma verso Radiscovic punta per un attimo Sain Hervatin grande sponda e il tiro di Slaven Radiscovic che va a piegare le mani a Michele Contento 18 e 30, 4 a 0 gesto di stizza qui del portierone del Brada Impex serata complessa per il bianco-blu ed è abbastanza raro vedere Brada sotto nel punteggio in questa maniera perso 6 a 2 la semifinale con le gomme Marcello per carità ma insomma battagliando per buona parte della partita stavolta non passa il passaggio di Birsa bravo Stancic e adesso superiorità numerica di là Stancic bella la finta per Bozic che lascia scorrere per Brick incrocio dei pali c'è Gruic non è finita tiro murato da Cariz anche un po' di sfortuna qui per Brada Impex che oggettivamente un gol avrebbe meritato molto sfortunato Chris Brick bella la doppia finta per liberare il suo destro Bole totalmente fuori causa in questo caso Gorgeli tra le linee per Birsa che tocca per Marco Ervatin su contento cerca una giocata da fantascienza ma contento insomma non è l'ultimo della lista accenno di fair play tra i due 4 a 0 Trieste costruzioni al termine della prima frazione in questa finale terzo quarto posto della Crese Cup allora accenno di intesa del signor Vallerugo abito arbitro chiedo scusa di questa finale terzo quarto posto si ricomincia con Brada Impex che muove il pallone e la Trieste costruzioni avanti 4 reti a 0 Gorgeli Ervatin Walter Birsa Radiscovic questi i marcatori con Brada che ha impegnato un paio di volte severamente il portiere avversario Sascio Bole poi anche un incrocio dei pali di Chris Brick nel finale niente da fare per la squadra di De Panfilis che resta sotto però clima vedete sportivissimo adesso Lionetti ottimo inserimento di Milan Gruic arriva la prima rete di Brada Impex gol meritato per il 10 è andato a bersaglio anche due volte nella semifinale contro le gomme Marcello reti per carità inutili ai fini del risultato ma gloria personale che non manca quasi mai per Milan Gruic Bosic primo minuto di gioco primo minuto di gioco della ripresa dicevamo clima in panchina molto amichevole vedete Bosic sta parlottando sulla panchina degli avversari per cui insomma animosità davvero poca con l'esterno bravo Sandy Besic ad intercettare Lionetti resiste al ritorno di Radiscovic cerca il destro da lì vole vola sulla sua destra non deve deviare va vicino a dimezzare lo scarto il centro avanti di Brada Impex qui sbaglia Grigeli allora Besic adesso chiamato uomo a Grigeli Ervatin andante per Walter Birsa sulla destra contro Gruic va a puntare il 10 Walter Birsa Gruic per un attimo poi ottimo il lavoro con la suola Ervatin va a sedere Michele Contento e gol di impressionante freddezza di Marco Ervatin 5-1 Trieste Costruzioni 3-30 su cronometro e viene da pensare peccato per l'espulsione di Matic che ha condizionato i giallorossi nella semifinale facendo poi prevalere Edilnü perché insomma vedere questi giallorossi contro le gomme Marcello sarebbe stato uno spettacolo totale si rimane comunque sul 5-1 grande Michi e adesso Stancic per Brada Impex si avventura però in un dribbling che serve inadvertitamente Walter Birsa che può puntare l'avversario serie di doppi passi scarico ottimo per Ervatin tocco di ritorno e arriva l'autorete di Sebastiano Ferro in chiusura scivolata alla disperata del numero 5 per evitare la doppietta di Birsa arriva un peccato di eccessiva generosità in questo caso sesta rete della Trieste costruzioni arriva al quinto minuto e 30 e ora Brada Impex in possesso Besic attaccato da Radiscovic regista il numero 2 Sain anche lui raddoppiato se ne va con un bel guizzo il numero 3 ancora Sain che porta via la palla Cariz impegna Bole grande giocata di Simone Sain che qui avrebbe meritato sicuramente un risultato diverso anche solo per la preparazione Besic sulla corsa un po' troppo di ferro Birsa contro ferro serie di giocate Gergeli Corrada Discovic ferro che insomma inizia a essere un po' infastidito anche da questa serie di numeri Birsa calciando sporco trova il palo alla sinistra di Contento arriva la doppietta per il numero 11 rimane preciso anche quando calcia male 11 e 40 sul cronometro della ripresa che chiaramente non gradirà granché il passivo che sta maturando seppur in una finale terzo quarto posto e al cospetto di giocatori c'è Bosic si fa vedere Chris Brick bella la sponda di ritorno e anche il controllo di Bosic in corsa punta Cariz la frenata l'appoggio a Chris Brick e arriva il gol molto ben costruito da Brada Impex 15 e 30 abbondanti sul cronometro della ripresa arriva la seconda rete dei bianco-blu marcatore Chris Brick meno 5 Verbrada con 9 più recupero eventuale recupero da giocare Bosic allora se la porta fino in fondo Cariz prova a chiuderlo ancora Sain che galleggia in area di rigore avversaria ma non viene servito da un pallone arriva adesso sul secondo palo tutto solo è improvviso questo cross con leggera deviazione è diventato un assist al bacio Versaigne che a questo punto forse non ha deviato allora bravo Bosic bravo lo stesso a farla passare in ogni caso ancora di più costretto a frenare il campo sta finendo ancora il duello con Perosha Stancic gestisce bene per Brick riesce a far arrivare a Bosic che apre il piattone un po' troppo stavolta ventunesimo ancora una chance per il terzo gol di Brada Impex fallita di pochissimo mentre oltre a Edilnou inizia a arrivare qualcuno anche delle gomme Marcello e maglia nero-arancio da qua mi pare di vedere la pain all'altezza della bandierina ancora l'undici che va verticale da Hervatin tocco di ritorno sbagliato però e allora Brada a caccia del 3 a 7 Bosic sulla corsa di Sain pallone un po' troppo lungo bravo però Simone Sain a mandare a farfalle Sascio Bole che non esce sui piedi del 3 arriva il gol meritato per Simone Sain 3 Prada Impex 7 Trieste Costruzioni intanto vediamo rientrare Milan Gruic almeno in panchina non so se per prendere gli effetti personali o cosa il gol di Sain per il 7 a 3 bocca al lupo Milan ancora una volta chiaramente pronti per vivere tra pochi minuti le emozioni e la posta in gioco della finale primo secondo posto quindicesima edizione Crese Cup ed il new Gomme Marcello ultime battute di questa sfida e ringraziamo nuovamente Miograd Milikovic per averci portato un giocatore di serie a calcare il campo di calcio a 7 di San Luigi finisce 7 a 3 per la Trieste Costruzioni Walter Birsa in maglia 11 salutato chiaramente con calore dagli avversari e con il dovuto e meritato rispetto doppietta per lui nel corso della partita 7 a 3 tra pochi minuti ricordiamo ancora Gomme Marcello adesso in completo nero arancio contro Edil New il terzo posto il terzo gradino del podio lo conquista la Trieste Costruzioni